Il rimpasto di giunta ha un avvicinamento necessario, una staffetta dovuta, così Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore, alla presentazione della nuova giunta. Nominata ieri mattina, hanno fatto il loro ingresso in seno all'amministrazione Raffaele Satiro, con delega ai fondi europei, Isabella Siani, con delega alla qualità e al benessere della vita, al cultura e al sport, rispettivamente i primi dei non eletti delle liste Comunità Italia e l'altra Nocera. Entra nell'esecutivo anche Anna Battipaglia, con delega allo spettacolo, commercio e innovazione tecnologica, componente della lista ora, mentre subentra in Consiglio Comunale Carmine Paolo Sessa, il primo dei non eletti. Cedono il testimone Maria Giuseppe Avicorito, della lista La Nostra Terra e Teobaldo Fortunato. E' stato nominato anche l'assessore al bilancio, nonché vice sindaco Massimiliano Citarella, mentre Stefania Riso riceve la delega alla pubblica istruzione, delega sino al rimpasto in appannaggio alla professoressa Avicorito. Ciò nonostante l'impegno dei tre ex assessori continua a essere fattivo e collaborativo e dal sostegno dell'amministrazione Guofano. In fondo è nel solco della continuità, non è che oggi interrompiamo il rapporto, interrompiamo ciò che abbiamo cominciato. Nel resto anche cambiare è un segno di vitalità di un'amministrazione che cresce, che è dinamica, perché così saremo sempre comunque a fianco ai nuovi soprattutto. E poi alcuni di noi entri, Anna Battipaglia, per esempio, ha collaborato attivamente con gli spettacoli. Quindi chi meglio di lei conosce questo settore. Ma insomma anche tutti i dirigenti, voglio dire, porteranno avanti i discorsi intraprese. Infatti io ho un ringraziamento, volevo farlo non soltanto ai miei colleghi assessori, a quelli che lasciamo, ma anche ai nuovi, ma ai dirigenti e insomma agli operatori del comune che davvero sono stati molto soletti e sempre vicini. Io ho appoggiato questo progetto politico, amministrativo e diciamo ho avuto la fortuna e grazie anche al sindaco di avere questo doppio ruolo, prima come assessore, oggi come consigliere comunale. Quindi la città per quanto riguarda il nostro progetto è quello che indipendentemente dal ruolo che oggi rivesto, che rivestiamo, è importante quello che facciamo per la città. Quindi il mio impegno continuerà nello stesso modo come prima come assessore e oggi come consigliere comunale. Le opere oggettive, materiali, queste siano sotto gli occhi di tutti e anche la relazione perché creare occasioni di incontro ha fatto sì che le persone stabilissero delle relazioni e stessero maggiormente nel territorio, fruendolo, in maniera piacevole. Quindi l'aggregazione dei ragazzi attraverso lo sport, attraverso attività musicali, attraverso tutte quelle attività che creano aggregazione penso che anche sotto questo punto di vista la relazione è stata posta al centro perché il cittadino potesse vivere il proprio territorio in maniera, come dire, gradevole affinché questo non venisse avvertito come repellente e quindi sospingente a portare fuori dallo stesso i nostri concittadini. Grazie. 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 Grazie.